Ciao a tutti amici di GuidoDalba.it, benvenuti in questo nuovo video dove vi voglio parlare di configurazioni hardware. Infatti se vi ricordate qualche tempo fa facevo ogni mese dei video su delle configurazioni che vi proponevo, però alla fine finivano per essere video tutti uguali. Prendendo spunto da qui video ho deciso di creare delle liste desideri su Amazon dove ho creato in pratica delle configurazioni sia con piattaforma Intel sia con piattaforma AMD che io aggiornerò frequentemente. Queste liste le ho inserite nel mio blog GuidoDalba.it, vi ricordo di venirmi a visitare, dove ho inserito una sezione che si chiama configurazioni PC e in questa sezione appunto troverete tutte le configurazioni che io vi propongo. Troverete quindi la proposta AMD con Athlon 200GE e una con Ryzen 9 3900X oppure per AMD troverete una proposta economica per esempio con Intel Pentium e una super potente con un i9 9900K e un RTX 2080 per fare un esempio. Queste liste io le aggiornerò di tanto in tanto per cui io vi invito a venire a vedere questa sezione. Naturalmente potrete trarre spunto e divertirvi anche a modificare queste mie proposte. Bene, per questo video io credo di avere finito, spero che vi sia stato utile, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Venite a trovarmi nelle mie pagine social, Facebook, Twitter e Instagram dove ho aperto un account che riguarda soltanto il canale quindi chiocciolaguidoDalba.it. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao ciao a tutti!